Tutti gli sguardi del bel mondo e degli appassionati di motori sono puntati sull'ultimo grande avvenimento della stagione automobilistica, il Gran Premio d'Italia. La corsa è serrata, ma Fascio e la sua rossa oggi sembrano inarrestabili. Una curva impeccabile e tre divisioni tra i suoi strato si vengono a rocciore per il suo quarto. La B-50 Ferrari mette a segno il colpo e taglia il traguardo, portando in trionfo il suo cavallino rampante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS